Beh, sembra tu conosca questo posto meglio di me, quindi non c'è motivo di spiegarti cosa fare, dico bene? Molte anime sono imprigionate al suo interno, la cattedrale sembra assorbire il suo potere demoniaco da loro, liberale e potremmo avere una possibilità Se vedi l'imbroglione ti conviene caricare la super corazza Grazie 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 Grazie